Siamo tornati con il secondo episodio Ci eravamo fermati qua, abbiamo conosciuto Gina, abbiamo conosciuto Lisa, Kei, a tutti gli altri Ci hanno dato le missioni, quelle di andare ai vari templi Dove ci sono le cosine che fanno arrabbiare il nostro amico Storm Terror e dobbiamo placarlo Allora, io prima di fare questo però, su questo account tolgo queste notifiche fastidiose Via, che come sempre danno fastidio, non le voglio, via di qua e via di qua Abbiamo capito che ci sono tutti questi belli eventi Dalla posta non abbiamo niente da acchiappare, quindi stiamo freschi così E poi, vabbè, amici, ho altre richieste da alcuni di voi, poi vi accetterò con calma E ovviamente i sabini Allora, siamo rimasti fermi qua E adesso abbiamo l'obiettivo di andare a incontrare Amber L'altra volta abbiamo fatto una multina proprio rapida rapida E su questo account adesso possiamo dire di avere come personaggi Keia Che ancora non ci è stato dato, ma ce l'abbiamo già perché l'ho trovato E Fishel, quindi abbiamo un inizio di team Questi sono i personaggi, un inizio di team Che non è male, sono tutti elementi differenti, quindi carino Il problema è che ho due archetti di già, però io inizio già a dare appunto Un arco leggermente più decente a entrambi le signorine Un pochino meglio, direi questo che dà un po' di crit rate meglio a tutte e due E a Keia mogliamo una di queste qua Cosa gli diamo? La lama fredda perché lui è ghiaccio? Gli diamo la messaggera dell'alba, la bringer of dawn Diamogli questa per il momento dai E quindi insomma, giusto per aver dato delle cose in mano a questi poverini Che li vedeva abbastanza messi male La lama fredda la diamo al nostro eater Possiamo procedere, dobbiamo andare a incontrare Amber al tempio Ho un'altra notifichetta qua che togliamo e via Quindi continuiamo l'arco in quest principale ragazzi Continuiamo l'arco in quest principale Questa parte qua la finirà su Youtube Direttamente, direttamente il sabato Uscirà questo sabato Comunque io faccio un piccolo salutino d'ingresso a tutti Benvenuti se siete nuovi nel canale Io sono Maui E questa parte di live che stiamo facendo sul sito Viola È finita, probabilmente se la state guardando adesso Su Youtube perché stiamo facendo una guida In cui riprenderemo da capo tutto il gioco di Genshin Dalla base fino a dove siamo arrivati Per quanto riguarda l'arco in quest Quindi se non avete ancora giocato e volete vivere questa avventura O se volete riviverla con me Siete i benvenuti Mi Vekita01, grazie per il follo Allora, procediamo Eccoci qua, la missione è questa Di andare qua Ma prima di farlo faccio un'altra cosa Che avevo dimenticato, importante Riapriamo la direttina Che questa non l'ho aperta Se no appunto i nostri amici non sanno che siamo qua in live E poi non ci possono raggiungere Tanto è già pronto tutto Ecco qua Almeno ci possono raggiungere Ta E ta Bene Quindi questo è pronto Eh se no appunto ragazzi Dobbiamo fare questi domain Qua adesso vedete tutti un po' la storia La continuiamo Vai Fatto Tutto pronto Possiamo procedere Parliamo con Amber Eccoci qua Ci siamo Questo è uno dei templi Dei quattro venti Abbandonati Quei tra questi templi Sono in rovina Ormai da anni Gli abitanti di Mostad Non li frequentano quasi mai È possibile che all'interno Troveremo il nido di un mosto O un accampamento di Illichurl Persino Terrore Alato Ha rinunciato allo stesso tempio Terrore Alato? Sì È difficile da accettare Anche per me Ma un tempo Terrore Alato Era uno dei quattro venti Cosa? Aspetta Hai sentito? Il vento qui Ha qualcosa che non va Entriamo a dare un'occhiata Ma Wittiel Fai attenzione Si sente il potere del drago In questa zona E si va ragazzi Si va Questo è il primo domain Che ci fanno sbloccare Il tempio del falco È il primo in assoluto Allora Eccoci qua Noi dobbiamo fare Nella profondità Del tempio del falco Il team ce l'abbiamo È di quattro personaggi Lo potete vedere E iniziamo Si va Apriamo il portellone Puoi usare questo meccanismo Per aprire la porta E ci siamo Allora Qua ci consiglia L'obiettivo è raggiungere la sud Dobbiamo arrivare laggiù Nel frattempo Possiamo iniziare A utilizzare in maniera furba Amber Come potete vedere Per dare fuoco A pareti Ci sono delle pareti Che noi possiamo tirare giù Ovviamente Se sono fatte appunto Di legno Non tutto però Non tutto prende fuoco Per esempio Questo anche se Degno non prende fuoco Quindi questo E ci prendiamo Anche questo qua Distruggiamo un po' tutto Perché ve l'ho detto Quando vi ho detto La prima puntata Il drop è fondamentale Il drop è fondamentale Quindi tutto quello Che voi trovate In terra Lo dovete raccogliere Quindi questo è importante Per quanto riguarda La domanda Su Dragon Spine Mi viene difficile Pensare Che non ci sia Nessuna fonte Lì vicina Poi comunque Il fuoco dura Un pochino Quindi Guarda bene intorno Se no mi sembra Ci fosse qualcosa Da mangiare Che potesse venirti incontro Allora Usa la vista elementale Per scorgere Gli attributi elementali Dei diversi oggetti Così potete sapere Che cosa Il verde simboleggia Il dendro E quindi è possibile Dare fuoco Questo è molto importante Quindi Allora Questo portale Salva In maniera tale Se noi moriamo Respondiamo qui accanto Con la vista elementale Vediamo cosa si può distruggere Banalmente Lo scudo Del nostro amichetto Può prendere fuoco Esatto Vedete Adesso prende fuoco Lui non si può più difendere E questo è molto importante Perché se non utilizzate Appunto Ad esempio Personaggi che hanno La claymore Che vi distruggono Gli scudi Semplicemente Con gli attacchi L'altra alternativa È quella di Bruciare gli scudi La reazione con il fuoco Fa sì che appunto Lo scudo In un lasso di tempo Si bruci E quindi Il personaggio Che ha uno scudo Uno scudo Qualcosa Così Lo potete annientare Tranquillamente Quindi prendiamo qua Questa cassa Raccogliamo tutto il drop Distruggiamo questo Ovviamente il fuoco Ha la classica reazione Con i barili Questi rossi Che sono quelli di dinamite Che fanno esplodere Ovviamente Muri e cose varie E infatti Qui dietro C'è un'altra cassa Quindi anche questo È molto importante Da tenere a mente Distruggiamo tutto Anche in quest'angolo E via Procediamo Tutto 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 Il cibo serve È molto importante Per craftarlo Poi Pietanze Che ci rimettono Anche un bel po' Di vita Qui abbiamo altri nemici Ci suggerisce Appunto Utilizzare I barili esplosivi Laggiù Come vi dicevo Appunto Per far saltare Nara Agli Il melt Fusion Hanno tradotto In fusione Cassa sbloccata E possiamo procedere Controlliamo Ad avere qualcosa Appunto Da Poter spacchettare Per prendere Ok Sì Siamo Che non me l'hanno ancora dato L'ho trovata a caso Nelle prime pool In assoluto Su questo account Ok Possiamo procedere È altissimo Sembra che ci sia qualcosa Lassù Quindi noi Attiviamo Questa specie Di portalino Che una volta Attivato Col pendolo Con l'elemento Che c'è sopra Rappresentato Attiva delle cose Tipo in questo caso Abbiamo creato Una corrente ascensionale Che ci permette Di planare Fino in alto Ci sono molti Marchingegni E meccanismi Che sfruttano Proprio Le reazioni elementali Su questi specie Appunto Di Altarini Ok Questo va distrutto Per tutti i dagli Il potere viene da qua E noi lo distruggiamo Distrutto Oh che stanchezza Perlomeno Abbiamo dato una mano a Jin In passato Almeno riuscivamo A difendere la città E a tenerla al sicuro Principalmente grazie a Jin Inutile dirlo Ma ora che Terrore a lato Attacca direttamente la città Il vento cambia E con lui Le nostre tattiche Sembra avere Un significato profondo A Lisa piace dirlo spesso A proposito dei quattro venti Di cui parlavamo prima Se volete saperne di più Sulla nostra storia Potete chiedere a Lisa Non sto certo dicendo Di non conoscere La nostra storia Però È chiaro no? Una bibliotecaria Ne saprà certamente di più Di una vigilante Ecco qua Primo domain In assoluto Finito Apriamo la cassa Mi raccomando Apritele tutte le casse Di questi domain Così Perché In alcuni Si può rientrare E rifarli anche dopo Ma molti Nella storia principale Poi non ci rientrate più Una volta E li avete fatti Quindi Sporarli bene a fondo Importante Lato all'alto Vediamo in lontananza Un'altra statua dei sette Che sono quelle che sblocchiamo Che ci sbloccherà La visione di questa parte Di mappa Però ora Finché non ci dobbiamo andare Io continuerei a seguire La storia principale E quindi Andrei Visto che L'area che dobbiamo andare È ancora all'interno Della nostra mappa Dove siamo direzionati Quindi incontrare Keia Al tempo successivo Perché dobbiamo appunto Andare in tre Dei quattro tempi Del vento Quindi andiamo Da Keia A incontrarlo E utilizzeremo Per andarci Lo stesso Keia Qui ci sono Degli irishul Che stanno controllando Una cassa E quindi andiamo A salutarli E poi utilizziamo Amber La reazione Del melt È molto molto carina Perché appunto Aumenta tantissimo Il danno inflitto Quindi È molto Molto utile Ora poi Pian piano Che le scopriremo Ne riparleremo Anche meglio Ora siamo in una fase Un pochino iniziale Per parlare di reazioni Per il momento Penso che ognuno di noi Tranne quelli Che sono già un po' più Schillati Menava e basta Ditemi voi Voi che avete già giocato E che state rivivendo L'avventura con me Adesso Se anche per voi È così Però io all'inizio Menavo tanto Menavo tanto Poi ho iniziato subito Un po' a prenderci la mano Quando ho visto Gli abyss mage Con gli shield elementali E quando ho capito Che andavano tirati giù Non con gli attacchi base Però di per sé All'inizio Io menavo a diritto Proprio così Quello che vedevo Io colpivo Io colpivo Poi quando ho visto Che utilizzando magari L'anemo Sull'anemo Non c'erano grandi effetti O lo shield pyro Non veniva tirato giù Con amber Allora ho capito Che c'era qualcosa lì Che Doveva essere Fatto in un determinato modo Però Ci siamo arrivati Col tempo ragazzi Quindi anche voi Che magari state guardando Questa live O questo video Per la prima volta Non spaventatevi Se vi sembra tutto complicato Perché anche per noi All'inizio Era tutto complicato Poi pian piano Ci abbiamo fatto l'abitudine Però una cosa Che non ho mai imparato È a mirare con l'arco Quello rimarrà Un dato di fatto ragazzi Proprio rimarrà Nella mia natura Il non mirare Finché non mi guardate Non mi vengano A un millimetro dalla faccia E a quel punto Posso quasi sperare Di fare qualcosa Di danno Io uso tutto adesso Sulle reazioni elementali Che prima mi sembravano Una cosa appunto Difficile Da comprendere Ora io tutti i danni Li faccio basandomi Su le reaction E non tanto Su quello che fanno Appunto Le singole skill Quindi ho proprio Evoluto il mio modo Di vedere il gioco Allora Possiamo procedere Eccoci qua Il tempio A cui stiamo andando È questo qua davanti Più o meno Nella mia prima live In assoluto di Genshin Il giorno in cui È uscito l'arrivata A questo punto qua Non ricordo se ho fatto Anche questo templio No Però probabilmente Sì Eccoci qua Corso intensivo Parla con Keia Prima però No volevo colpire il piccione Ma è volato Uffi Eccoci qua Keia Siete arrivati Avvicinatevi Sentite questo odore Non sento niente Deve essere successo Qualcosa nel tempio Ci saranno Melmosi Melmosi sono gli slime Ilicurla Sono gli Ilicurla E qualsiasi cosa Sia che da potere Atterrore al lato Già Mi aspetto parecchie attività Una volta entrati Sarà pericoloso Per quanto Movimentato possa essere No Non credo che sarà pericoloso È un vero peccato Che il tempio del lupo Abbia dovuto subire Una tale atrocità Quello di prima era Quello del falco Questo è quello del lupo Entriamo Maui Anche se nessuno Presenta più offerte Al 420 Le antiche prese Non cessano mai di soffiare Dobbiamo occuparci Dei templi Per i 420 Quindi andiamo Andiamo a sconfiggere I Melmosi Tempio del lupo Let's go Eccoci qua Parti attivo E si parte Ciao Ashley Eccoci qua Ciao Keia Adesso diventi parte del party Ma io ti ho già Lascia che ti mostri In che modo i cavalieri di favogno Si distruggono i loro avversari E ce l'ho già nel party Qui salviamo Così che se moriamo Rinasciamo qua Dobbiamo andare lassù Se non sbaglio Lassù dovrebbe esserci L'uscita del tempio Allora Adesso viene spiegata Un'altra reazione Molto importante Che è quella del freeze Che sfrutta l'idro Quindi l'acqua Più il ghiaccio Il crio Vedete c'è l'acqua per terra Per questo vi fanno usare Keia Perché utilizzando appunto Keia Si applica Il fattore umidità Se si cammina nell'acqua Con il crio Si fa il congelamento Freeze O come lo vogliamo chiamare Qui c'è semplicemente L'applicato l'acqua Per il momento Adesso quando ci verranno incontra Utilizzando la E di Keia Vedrete come verranno tutti ghiacciati Eccoli qua Ta Ghiacciato quello lì Utilizzando la base di Keia Rimangono tutti ghiacciati Quindi questa è un'altra reazione Molto forte Molto forte In molti contenuti del gioco Anche in quello più challenging E complicato Che è l'abis Spesso si tende a utilizzare un team Che applica il freeze Per questo motivo Perché questi secondi In cui i nemici Vengono tenuti fermi Sono fondamentali Per menarli Fitti Fitti Menarli bene bene Ok Precediamo di qua Altra area In cui possiamo salvare Appunto La nostra rinascita E in questo caso Il freeze Lo utilizziamo anche Per altri meccanismi Il nucleo del lanciafiamme E' ciò che ci fornisce L'energia per sputare il fuoco Usa vita di Krayu Per disattivare Temporaneamente I nuclei dei lanciafiamme E impedire loro Di sputare fuoco E così facciamo Lo spengiamo E facciamo così Ecco Sono responati Due amichetti Questi sono Krayu Cioè sono Hidro E quindi applichiamo Il Krayu Come vedete Ta Fatto Quello che vi stavo dicendo Quello che vi stavo dicendo Fatto Easy Li frizziamo E così via Frizziamo Lo disattiviamo Momentaneamente E passiamo Questa reazione E' immediata Il capire che Una cosa bagnata Se gli viene tirato Il ghiaccio Viene ghiacciato Quindi è semplice Giorgio Benvenuti in live Eccoci qua Planiamo Sblocchiamo Un altro Simpaticissimo Teleport All'altro Non mi ricordo Se c'era Una cessa Da qualche parte Deve guardare planando Ma non mi sembra Di vederla Quindi no E risaliamo Ok Apriamo la porta Ed eccoci qua La pietra blu Al centro Della stanza E' una Idroambra Rompendola Inizierà a piovere Applicando Umidità A tutto ciò Che si trova Nel raggio D'azione Quindi Non abbiamo Un personaggio Idro in team Non possiamo Attivarlo noi Distruggendo la pietra Inizia a piovere E' stato applicato L'idro E quindi Non lo possiamo Frizzare Nonostante sia Un pg pyro Poi vi faccio vedere Anche fischel Che utilizza L'elettro Con la sua bars Giusto per O meglio Questa era la Giusto per appunto Mettere in campo Un po' Anche gli altri elementi Che abbiamo E così facendo Continuiamo Meniamo diritto E così via Cassa sbloccata Dall'altro Una bella Cassettina Importante Gadol L'avventura Lo portiamo Al 6 E distruggiamo Tutto E droppiamo La ciccia 10 primogen Le casse Le casse così Che sono Il secondo tipo Di casse più rare Dopo le Luxurious Che sono Le casse Luxo Che sono quelle Che vi droppano tanto Ci sono queste qua Bene Abbiamo rotto tutto? Sì Per il divertimento Distruggiamo di nuovo questo Possiamo procedere Ciao Giorgio Andiamo 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 Allora Qui c'è l'acqua Quindi Solito meccanismo C'è l'acqua Quindi frizziamo l'acqua Sempre con l'applicazione Questa cosa è molto simpatica Il fatto di applicare Il ghiaccio per passare Vedrete che tornerà utile In tantissimi momenti Per Goliardia Noi dicevamo Di raggiungere Sostanzialmente Un'area molto lontana Che è quella appunto Di Nazuma Che è la Terza regione Sbloccabile del gioco Proprio Attraversando tutto Con Keia Impossibile Perché ci sono dei fulmini Che vi tirano giù Quindi È impossibile farlo Però fa un sacco ridere Il fatto che appunto Che c'era questo meme gigante Al riguardo No qui non c'è nessuna cesta Possiamo andare di qua Eccoci qua Stanza Qui ci saranno Gli altri nemici È l'oggetto Che terror al lato Usa per acquisire potere Come di là ragazzi Nel domain prima Distruggiamo questo Se magari Me lo fa distruggere Perché è salito sopra Eccoci qua Stardinario Ottima prestazione Mi sorprendi Sei un cavaliere Ben addestrato È stato un autentico spettacolo Vederti in battaglia Grazie Mi fa piacere Sentirtelo dire Vedo che hai già fatto Tu Hai già fatto tua La virtù della modestia Tipica dei cavalieri Per ora Monstad Per anni e anni Per tutta Monstad Per anni e anni Avvenire Si narrano Le geste eroiche Date e compiute Per salvare La città Della libertà Della distruzione Si narreranno Quindi in futuro Vieni a trovarmi Al quartiere generale Quando avrai tempo Conosco anche Una bella taverna Se preferisci La taverna Abbiamo liberato Un altro tempo Della morsa Di terrore alato Del resto Posso occuparmi io Tu pensa Alle altre cose Da fare Nel mentre Ci vediamo presto Allora Ciao ciao E' impossibile Che gli Rishul Abbiano organizzato Una simile Imboscata Senza dito Di nessuno Non hanno L'intelletto Necessario Quindi Tutto questo È opera tua Ghost Kiso Vomp Cavalieri Di Fabonius Ecco qua Signori e signori Come vuoi tu Ma finora La tua presenza Ha reso tutto Molto più interessante Ci è stato mostrato Un nuovo personaggio Un nuovo personaggio E noi otteniamo Keia Che però Come sapete Abbiamo pullato La volta scorsa E quindi Abbiamo ottenuto La costellazione Di Keia Ora parliamo Di che cos'è Una costellazione Perché Non pensavo Avremmo sbloccato Una costellazione Così presto Però così è stato Praticamente Dovete sapere Che quando voi Pullate E ottenete Un personaggio Una volta in più Rispetto alla prima volta Questo Fino a un totale Di sei volte Va a sbloccarvi Una sua costellazione La costellazione È un potenziamento Di un qualcosa Nel caso di Keia Ci sono sopra Io in questo momento Alla lettura Del potenziamento Ve lo leggo Il tasso di critico Dei danni normali E dei danni caricati Di Keia Contro gli avversari Sotto l'effetto Del krio Aumenta di un 15% Quindi Quando pullate Lo solito personaggio Per più volte Questo diventa più forte E finisce un totale Di sei volte Una volta superata La sesta costellazione Pullare il personaggio Ulteriormente Cosa che capita Soprattutto con i quattro stelle Man mano Si va avanti nel gioco Vi conferirà 25 star glitter Che corrispondono A un totale Di cinque vocazioni Quindi Che potete scegliere voi Se fare poi nel banner Che è quello permanente Che conosciamo Perché è quello In cui abbiamo già pullato O in quell'altro Che è temporaneo Che cambia personaggi Intanto noi ci sblocchiamo La c1 di keia Oggi è andata così Ragazzi Oggi c1 di keia Incredibile Incredibile Iniziata a giocare Da 5 minuti Abbiamo già una c1 Ci prendiamo Tutti gli spiegoni Gli spiegoni doppi Gli scorriamo doppi Un sacco di primogenze Con tutte queste spiegazioni Abbiamo anche una spada nuova Abbiamo la spada Del viaggiatore C'è roba grossa Qua ragazzi Armi Spada del viaggiatore Che dà difesa Quindi non ci interessa Dobbiamo fare danno In conta lisa Nel tempio E qua ragazzi Si procede A fare le cose Perché dobbiamo andare Da lisa Per andare da lisa Dobbiamo andare Nella nuova area Quindi ci fermeremo Prima a questo teleport Per sbloccarlo E poi faremo tappa Ovviamente Alla statua dei sette Per sbloccare L'area nuova Intanto andiamo A prenderci il primo teleport Claudia sarà molto fiera di me Che mi vede Utilizzare keia Questi sono molto importanti Si chiamano crystal core Ragazzi Sono molto importanti Ora non sto a spiegarvi Tutti i dettagli Ma sappiate Che ne avrete bisogno Sempre Quindi già dall'inizio Se siete nuovi Il più possibile Raccoglieteli Il più possibile Allora dobbiamo salire Quassù in cima Utilizzeremo la scorciatolina Qua di lato Per riposarci Perché la stamina È inizio gioco È molto poca Ecco qua Vedete È bella è finita a mezza Praticamente Per fare tre saltini Non ci arriviamo nemmeno In cima Dobbiamo andare proprio dritti Precisi Senza incastrarci Su questo lato E ci arriviamo bene Eccoci qua Così ci arriviamo In cima Ciao il Pasotti Allora Apriamo una cassa Che ci fa sempre comodo E sblocchiamo Questo teleport Qui dall'alto C'è anche un meccanismo Da fare per sbloccare Quella cassa lì Visto che ci siamo Lo facciamo in diretta Anche perché È un altro meccanismo Che vi spiego Per i nuovi Questo meccanismo Vedete C'è una cassa centrale Dovete fare caso Se ci sono Questi specie Di lanterne Lanterne che attivate Soltanto col pendoli Con l'attacchi di fuoco Io raccolgo materiali Che sono materiali Di ascensione Questi Praticamente Dovete colpire Tutte le lanterne Che vedete Di solito sono Quattro O cinque Dipende La maggior parte Di casi Sono quattro E le attivate Una volta attivate tutte Praticamente Si sblocca La cesta centrale Queste qua Che vedete Fatte così Si attivano solo E unicamente Con gli attacchi di fuoco Possono essere attacchi Elementali Fatti con la spada Fatti con Uno spadone Fatti con una lancia Fatti anche Semplicemente Con i catalyst Con gli attacchi base Vanno bene tutti Vedete Ne ho sbloccati quattro Come vi dicevo E la cassa centrale Aperta Quindi Fish L'ho trovata Con le evocazioni Quindi Evocando Con le gemme Che ti danno all'inizio Le primo gemme Che ti danno all'inizio Ho evocato qua E andando indietro Nella cronologia Del mio account Che ho fatto Veramente Soltanto Poche evocazioni Come vedi Il primo Che ho trovato È stata Fishel Quindi è stata Una botta di fortuna Saliamo di qua Che c'è un'altra cassa Che ho visto E poi ci dirigiamo Al Windrise Che è dove c'è La statua dei sette Quindi fate sempre caso Quando ci sono queste strutture Particolari Alle casse Qui c'è anche uno Spiritellino Che per il momento Ignoro Perché comunque Torneremo a fare esplorazione Perché fra poco Saremo bloccati Con l'arcon quest principale Da un limite di livello Ogni tanto Soprattutto quando Giovate da poco I primi 30-40 livelli Sono limitati Per certe cose Cioè Per progredire Al pezzetto Di archon quest successiva Il modo per poterla Sbloccare Sarà Quello di Raggiungere Un livello X Quindi fra un po' Ci dirà Che noi dovremo Raggiungere il livello 10 E a quel punto Il modo migliore Per raggiungere il livello 10 È proprio quello Di esplorare Aprire le casse E fare questa tipologia Di cose Che conferiscono Non tanto Il livello Ai personaggi del party Ma quanto Al vostro livello Come account Che in questo momento Il mio Come vedete qua sopra È il livello 6 Tra l'altro Abbiamo fatto anche Degli obiettivi Quindi Prendiamo qua E via Ciao Ligo Buono studio Buono studio In bocca al lupo Per la tua interrogazione Ecco Qua ci sono altri materiali Quando brill luccica qualcosa Prendeteli Questi qua in particolare Che sono le asteria del vento Sono praticamente Dei fiori Che servono Per portare su Con l'ascensione Alcuni personaggi Ma parleremo Dell'ascensione meglio In un momento In cui vedrete I primi personaggi Che vi ascenderò Su questo account Allora andiamo qua Questa è una strata dei 7 Come quella Ci hanno fatto sbloccare All'inizio Che ci fa L'animazione carina Il mondo si apre Davanti a chi possiede Un cuore nobile E ci fa vedere Un pezzetto di mappa In più Di monstrad Sbloccato Quest'area qua Che adesso è visibile E infatti Il nostro prossimo obiettivo È questo Che era all'interno Dell'area oscurata Quindi Impostiamo la navigazione E andiamo Il posto di monstrad Anche il mio Anche il mio Questa è stata qua Venerando la statua Donandogli Gli animoculus Che sono quelle strutture Qua giù in fondo Che voi vedete Questi qua Animoculus Che raccogliamo a giro Potremmo portarla Su di livello Portarla su di livello Vedete la prima cosa Vi dà Vigore più 7 Che cos'è il vigore È quella che io vi chiamo Stamina Quella barra gialla Che quando vi è arrampicato Quando correte Vi permette di spostarvi Più rapidamente Ha una scadenza Che si consuma Così facendo appunto Aumentate la sua dimensione Quindi è molto importante Portare sulle statue Per chi appunto Ama l'esplorazione libera Andando in giro Incontrerete tanti Animoculus Tuttavia Per i più Magari Un po' come me Che hanno L'impegno A trovarli tutti Per fare una cosa ordinata Sappiate che Sfruttando semplicemente La mappa di Oio Lab ragazzi Così facendo Potete trovarli Perché ve li localizza tutti Canechi Grazie per il folle Benvenuti in live Ecco a voi La cosa più stancante Sì Se uno lo fa Senza appunto Ricorrere a L'utilizzo della mappa Della Oio Lab Sì Però io vi consiglio Di farlo Soprattutto non tanto Per cercarli Ma per segnarli Quando li trovate Perché così Vi permetterà Nel momento in cui Volete completarli tutti Che arriverà Il momento in cui Volete completare tutti Di appunto Fare appunto Una mappa mentale Di questo l'ho preso Questo l'ho preso Quindi devo andare di qua Quindi io ve lo consiglio Tantissimo Tanto Oio Lab È un'app che Pesa pochissimo Sul telefono Ma che è fondamentale E comunque La potete aprire anche da pc Allora Qua c'è una cosa particolare Noi abbiamo il team Perfetto Perché se vedete Ci sono tre pilastri Di tre elementi diversi Ma per l'appunto Sono i tre elementi Che noi abbiamo in team Quindi Pyro Elettro con Fishel Come vi ho detto Il caricato degli archi Diventa elementale Infatti eccoci qua E poi qui sotto Abbiamo il Crio Con Kaya Attiviamo tutti e tre Attiviamo tutti e tre E sbrocchiamo Una cassa Di quelle belle Grossette Come vi ho detto Le seconde In grado di realità E anche a livello Di ricompense Quindi buono Sono dieci prime No queste sono cinque Queste sono cinque Perché non siamo nel domenio Sono cinque prime E un po' di ricompense Artefattini e cose varie Poi Altra cosa carina Vedete ci sono questi Sbrillucini d'erba Vi permettono di fluttuare Vi permettono di fluttuare Quando ne erano Già Ritruppate tre vicine Via Esatto Esatto Per i pazzi Come noi Che abbiamo un po' esplorato Io soprattutto Monsta Di resto Non ho mai esplorato tutto Del tutto Perché ho le giornate In cui amo esplorare Ci sono giornate più tranquille E quelle proprio in cui amo Esplorare alla follia E quindi mi tengo appunto L'esplorazione per quei giorni lì Praticamente però appunto Monsta Te l'ho praticamente completata tutta Hanno creato degli strumenti Che sbloccherete Un po' più avanti Che servono appunto Per segnalarvi L'area in cui si sta appunto C'è la possibilità Di trovare una cassa E così Poi non vi dice Il punto preciso Vi guida Vi guida un po' E poi voi la trovate Alcune volte appunto Devono essere sbloccate Uccidendo dei nemici Alcune volte Devono essere invece Trovate dietro Appareti rocciose Cosa che capita molto frequentemente O con altri meccanismi Del genere Ok bene Anche questa l'abbiamo aperta E proseguiamo di qua Green Witch Grazie per il fallo Benvenuti in live Andiamo Andiamo Dobbiamo andare lassù Vedete dove c'è quella luce E anche Toxic Franchi Benvenuti tutti Benvenuti tutti Player Genshiniani Comunque ecco Per esempio Quegli slime Pensierino mio Utilizzate gli elementi Gli slime Hanno un elemento loro Quindi E non utilizzate mai Il loro elemento Per attaccarli Non aveva senso Utilizzare il Traveder Con gli slime Anemo Perché non c'è reazione Non c'è niente Non c'è proprio danno Sono immuni ovviamente Al danno d'anemo Quindi Ragionate sempre In maniera elementale Vedrete che All'inizio Potrà sembarvi Leggermente complicatino Ma in realtà È proprio La cosa più immediata Che vi verrà da fare Più avanti Fidatevi di me Allora Abbiamo questa bella Parete rocciosa Io passerei di qua Perché Nel mio primo account L'avrei scavalcata Molto facilmente Sfruttando magari Qualche onda ascensionale Fatta per esempio Da casua O cose del genere Ma qua non mi sembra il caso Il casua Per rimanere in tema E quindi spostiamoci Andiamo Altri slime Eh Andava fatta la battuta Nuovo account Battuta Che sull'altra È stata fatta Numerose volte L'ho sfruttata Anche su questo Ok Un'altra cosa Particolare Dovete sapere Colpendo gli alberi Ottenete legna Questa è una cosa Che hanno introdotto Da praticamente Un'annetta A questa parte Quando è uscita La teapot Un'annetta e mezzo Quindi all'inizio Non esisteva questa cosa Tu colpivi gli alberi Non succedeva nulla Ora Troppi un totale Di circa Quattro legni Mi sembra per albero Qua mi sta tutto Discorso di accogliere la legna Ci sono tantissimi Tipi di legni differenti Valiano anche In base alle regioni Noi ovviamente Abbiamo soltanto Quelli di Monstrad Per ora E soprattutto Quelli della parte In cui siamo Ma ce ne sono tantissimi Eccoci qua Lisa Ehi tesorino Vuoi aiutarmi anche tu? Molto gentile da parte tua Se hai bisogno di una mano Passa pure da queste parti Di cosa si occupa Una bibliotecaria? Ottima domanda In breve si occupa Di cose a cui non serve Forza fisica O intelligenza Quindi cosa fai in sostanza? Faticamente niente Faticamente niente Bene Nuovo domain Entriamo Dopo questo domain Ci daranno anche Ufficialmente Lisa Eccoci qua Tutti i personaggi Presenti Noi abbiamo official Che io preferisco A Lisa come gameplay Quindi manterrò Official Come mio personaggio Voi all'inizio Magari se non avete Degli elettro L'elettro è molto buono Quindi sfruttatela Evermax Grazie per i follow Benvenuti in live Eccoci qua Che si potrebbe provare Immagino Proviamoci Adesso mi fanno usare Lisa Ma io mi rifiuto Categoricamente Le sapevo Una forte energia elementale Previene dalla profondità Di questo tempio Tanto ce l'ho già Un elettro Qui vogliono farti Sfruttare la reazione Con l'elettro Ma noi siamo già Siamo già avanti Ragazzi Col fatto che abbiamo Trovato official Siamo già avanti Io ho penalizzata Dal cappello Bellissimo Infatti nei primi commenti Che io ho fatto Sono stati proprio Ma il concept È bellissimo Evermax Ciao Sì Fischl è stata La primissima evocazione Che ho fatto Grazie per il follow E benvenuto Sono una content creator Ufficiale di Genshin Sto facendo Una Una Praticamente Guida su Youtube Di parti Di tutto il gioco Dall'inizio Questo non è il mio account Principale E sto appunto Guidando tramite appunto Il canale Youtube Faccio praticamente La live E poi questa parte La metto tutta su Su Youtube L'elettro con che elemento Ha la reazione migliore Il dendro Che è stato introdotto Da fine agosto Praticamente l'elettro Era quello che Subiva un pochino peggio Le reazioni elementali Ma ti assicuro Che con il dendro Ha avuto vita propria Quindi appena Pullerai un personaggio Dendro Che magari avrai fortuna Ti uscirà brevemente Se no magari ci vorrà Un pochino più di tempo Sappi che La reazione migliore Che puoi fare È proprio quella del dendro Assolutamente sì Ok Vedete perché ci vogliono Far utilizzare Lisa Ma noi abbiamo Fishel Quindi io inizio Già a sfruttare Fishel Che è stata uno Dei miei primi Quattro stelle Anche nel mio primo account L'abilità elementale Di Lisa L'abbiamo sfruttato Fishel Può essere L'abilità elementale Di Fishel Può essere scatenata Premendo O caricata Tenendo premuto Quindi adesso Per il man Vi metterò un attimo Appunto La stessa Lisa Giusto per il gusto Di Lisa praticamente Ha un'applicazione Differenza Della skill elementale Può essere tenuta caricata E fare un determinato Tipo di danno Lei è una catalyst Quindi il suo attacco base Praticamente fa danno Elementale Questa è la caratteristica Principale dei catalyst Che li contraddistingue Un po' dagli altri La differenza Di un Ether Con la spada Che tira attacchi normali Gli attacchi di Lisa Non esistono normali Saranno sempre Elementali Eletro E così è lo stesso Vale per tutti i catalyst Saranno sempre elementali Dell'elemento Del catalyst stesso Quindi è molto comodo Soprattutto quando andate A affrontare i nemici Che hanno già Un'applicazione elementale Tutto loro Come gli slime Avere appunto In team Possibilmente qualcuno Che faccia questo Comunque La skill di Lisa È particolare Perché potete O usarla Come è normale O se no Tenerla premuta Per più tempo E avere una reazione Differente L'unica cosa È che Lisa Purtroppo Per canalizzare Questa skill Ci mette Veramente tanto Motivo per il quale A me non fa Molto impazzire Preferisco Piazzare Fischel Che utilizza Oz Il suo corvo Per fare danno E intanto Switchare con altri personaggi Così è più facile Fare tante reazioni insieme Lisa purtroppo È molto lenta Da quel punto di vista Per lei è caricata La sua barsta È molto carina Appena lei si ricarica Ve la faccio vedere Ciao Sara Però Secondo me È un po' lenta Non è ottimale Soprattutto quando Uno all'inizio Sta imparando a giocare Magari viene mediato In tantissimi modi E cerca di difendersi Mico Grazie per il follow Benvenuti in live Quindi Se trovate un altro elettro Vi consiglio di Ovviamente vedete chi è Tutto Ci sono alcuni pg Che magari sono migliori Di altri Non è assolutamente Colpa sua Esatto Non è colpa sua Poverina Cosfrank Benvenuti in live Però purtroppo La sua elementale È un po' lenta Dovete essere Molto lontani dai nemici In maniera tale Che non vi attacchino Prima che l'avete canalizzata Dopodiché Fa anche i suoi danni La barsta Invece è questa Applica una lanterna Che fa danni In un'area Quindi la barsta È molto carina Uno la può utilizzare Per la barsta E poi switchare Quello assolutamente sì Nene Ciao tax Grazie per il follow Benvenuti in live Per la barsta È molto carina Per il resto Vi consiglio Altri tipi di Appunto Eletto Perché risulta essere Un po' lentina Purtroppo Ed ecco qua Eliminati tutti E possiamo procedere Adesso abbiamo Tutta una fase Di platforming Io sono un po' isterica Quindi molto spesso Cado di sotto Perché voglio fare Le cose di fretta Perché quando Non so se anche voi Avete questa percezione Ma quando le pedane Vanno lente A me prende la smania Non ci credo E me lo stai chiedendo davvero Questa è una vision E qui si parla Per le vision Della prima volta Mi hanno usato I prescelti Per attraire il potere Ecco qua Sblocchiamo anche qua Il portale della rinascita E procediamo Eccoci nell'ultima stanza Ragazzi Anche qui Come potete vedere Abbiamo a che fare Con la distruzione Di questo coso Che intrappola Il potere dell'animo Ecco qua Distrutto Abbiamo tutto Un animoculus Il primo in assoluto Facendo il domain Quindi questo Lo teniamo Con la storia Daniel007 Grazie per il follow Benvenuti in live Drago d'Oriente Leone del Sud Lupo del Nord E Falco d'Occidente Quindi ovviamente I domini sono stati questi Abbiamo fatto Dersi il Leone del Sud Abbiamo fatto Il Lupo del Nord Abbiamo fatto Il Falco d'Occidente Ma anche il Drago d'Oriente Sono i 4 venti di Monstad Affegati a Barbatos Il Dio di Anemo Terrore Alato È noto come il Drago d'Oriente Ma il suo vero nome È Dvalin Anche se In questa faccenda Di Terrore Alato Sembra che a Monstad Tutti se ne siano dimenticati Ora sai perché Dvalin può cavalcare Solo i tre poteri Dei 4 venti Perché si è andato Consumando sin dal principio Perché arrivare a tanto? A causa dell'odio immagino L'odio? L'odio per Monstad È stato l'odio A farlo diventare Più potente del vento stesso Fino ad assumere Le sembianze Di un Terrore Alato Ma perché Mai uno dei 4 venti Odia la città Che dovrebbe proteggere Per noi figli di Monstad È una vera difficile È una verità difficile Da accettare Ecco Prendi questo È una storia antica Che risale a più di un secolo fa E ci dà appunto Il supplemento Della brezza e la foresta Sappiate che Verremo riempiti Rimpinsati di Tomi Di Tomi Ne ci rimpinseranno Ragazzi Sapete che avremo Un sacco di libretti Un sacco di fonti Che potete leggere E che potete godervi In italiano Cosa che per noi Non era possibile Quindi Sarà anche bello Appunto potersi godere Queste cose Sblocco tutti questi Nuovo Che mi danno Veramente fastidissimo Scusate Non avevo ancora mai Aperto per bene L'inventario Ecco qua Tutti i nuovi artefatti Che ci segnalano Di essere nuovi Ben arrivati Artefatti E qua Cristalli E tutte le varie cose Perfetto Oh no C'erano due spade Bene Sblocchiamo Questi Qui abbiamo Le missioni Vedete abbiamo Delle missioni avventura Che sono le cose in più E le scintille tra le pagine Io ancora non ho official L'ho trovata evocando Quindi utilizzando appunto Le primo gemme Per fare le evocazioni Mi dico primo gemme Perché magari Avete iniziato poco E le chiamate così Il termine inglese Che è quello che abbiamo utilizzato Noi per due anni È primo gemme E per me rimane Quello lì però Guardate ragazzi Abbiamo sconfitto I vari problemi Nei tre domain E la tempesta Mondstadt Si placa Siamo stati bravi Abbiamo placato E otteniamo Lisa Così facendo Si ottiene Lisa Quindi Per chi non ha Un personaggio elettro Finito questo domain Ottiene Lisa Fatto Lola grazie per il follow Benvenuti in live Fiu Ce l'abbiamo fatta Bene Ora tutte quelle linee Geomantiche Ed elementali Di cui parlava Lisa Dovrebbero essere Tornate alla normalità Vuoi tornare indietro Per vedere come Se la passano i cavalieri Se hai in mente Qualcosa di più Divertente da fare Paimon sarà felice Di seguirti Comunque sia In uno di quei Quattro tempi Quattro venti Abbiamo ottenuto Un'alta nemoculus Vero Potremmo trovare Degli altri in futuro Quindi non dimenticare Gli offri Delle statue Quello che vi dicevo Prima Quello che vi dicevo Prima Capitolo del tempi Fugit Eccetera Livello di avventura 15 E ci dice questa cosa Di nuovo Quindi Adesso Il nostro compito Da adesso È livellare Dal 7 Al 10 Abbiamo Nell'inbox Delle cose Molto importanti Ragazzi Molto importanti Perché sono Tutta una serie Di ricompense Che sono state date In questi giorni Per la vittoria Di Genshin Di tutta una serie Di premi Quindi abbiamo Un po' di Premi Che possiamo Prendere 400 600 800 1000 1200 1400 Quasi una multi Quasi una multi Ragazzi Ma abbiamo già Qualcosa da parte Quindi siamo Praticamente arrivati A fare una multi Che non faremo adesso E vi spiego anche perché Ciao Rudy Tutto bene? Grazie Tu come stai? Non voglio pullare adesso Per il semplice fatto Che se ci fate caso Ragazzi Tutti i personaggi Di questa patch Non vale la pena Purlarli per i nuovi Perché? Perché per sbloccare I materiali di ascensione Di uno scaramuscio Di un hito Dovete essere arrivati A Sumeru E a Inazuma Lo stesso discorso Per dopo Hayato E Raiden Avranno bisogno Di materiali Che io purtroppo Non posso ancora Permettermi Quindi ora come ora La cosa migliore È aspettare Il cambio di patch Terremo tutto Quello che farmeremo Free to play Su quest'account In queste varie volte Per il cambio di patch E le multi Le esauriremo Più avanti Considerando che Dovrebbe esserci Di nuovo Il Lantern Ride In corrispondenza Con il capodanno cinese Dovrebbero tornare I personaggi Della seconda area Sbloccabile L'Yue Che è completamente Raggiungibile Già dall'inizio Del gioco Fatte le prime cose A Mondstadt Di conseguenza Ci sarà del materiale Che potremo farmare Quindi ora come ora Non ha senso Nonostante ci sia Un bel pool Di personaggi disponibile Pullare Se siete nuovi Io ve lo dico Semplicemente Perché I materiali Che appunto Sono presenti Per le vocazioni Di questi personaggi Qua Sono tutti materiali Che non sono Raggiungibili adesso E che non saranno Raggiungibili Per tanti e tanti E tanti livelli Quindi È stramega Sconsigliatissimo Dal mio punto di vista Ve lo sconsiglio Quindi Il prossimo evento È fare i pull I prossimi band Saranno Quello di Raiden E quello di Aiato In concomitanza E quindi Non vale la pena Allora però C'è una cosa carina Che non abbiamo ancora fatto Dobbiamo tornare a Mondstadt Perché Tutte le volte Che voi farete Un livello Il vostro Non il livello Dei personaggini singoli Ma La R Quindi il vostro L'avventura Grado avventura Tradotto in italiano Potete venire qua A ritirare le ricompense Oh Paimon sente Odore di tosta Del pescatore L'aroma proviene Dal buon cacciatore Una spessa fetta Di morbido pane Bianco tostato Sromontato da una Generosa porzione Di cipolle Fettine Leggermente caramellate Dalla tostatura Yum Paimon ha deciso È un'emergenza Emergency food Dobbiamo Necessariamente Ordinare Una generosa porzione Del tost Del pescatore Del buon cacciatore Subito Offri tu ovviamente Ma rendiamoci conto Paimon È così delizioso Gnam 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 Il tost Del pescatore Del buon cacciatore Il migliore Potrà sembrarti strano Ma in realtà Si tratta di una ricetta Classica Che chiunque Ammossa Ha del grado Di cucinare Puoi provare A cucinarlo anche tu Se hai i giusti ingredienti Le abilità Cusinare di Maui Saranno superiori A quelle del buon cacciatore A te Non piacerebbe Farti assaggiare Personale Una fatti Assaggiatrice Personale Non deludermi Ora poi ci andiamo Avevamo sbloccato Una nuova missione extra Se noi andiamo a parlare Con questa tipa La giù c'è una ragazza Che ti sta salutando Inquietante Ha detto così Eccoci qua Catherine La gilda degli avventurieri Ti dà il benvenuto A dire il vero Ti ho tenuto sott'occhio Per molto tempo Hai tenuto sott'occhio Maui Combinato su qualche guaio Oh non intendevo Affatto questo Essere alla ricerca Di nuovi avventurieri Fa parte del mio lavoro Quando ti guardo Vedi una persona Che con un potenziale Da poter riveleggiare Con i grandi Avventurieri Delle leggende Anche Paimon lo vede Paimon si sente sempre Al sicuro Quando si trova con Maui Comunque Per un avventuriere L'esperienza È molto più precisa Del potenziale Devi accumulare Esperienza avventura Per aumentare Il tuo grado di avventura Il tempo è fondamentale Lascia che ti spieghi Aspetta Sta dicendo che Siamo tipo Avventurieri ufficiali Ora Non preoccuparti La gilda degli avventurieri Non fa pagare Nessuna quota associativa Ne impone alcun obbligo I suoi membri In poche parole Ci sono molti vantaggi Ma nessuno inconveniente A diventare un membro Va bene allora Di base La gilda degli avventurieri Ti ricompensa Ogni volta Con il grado di avventura Che aumenta Ecco un regalo per te In quanto un nuovo membro In futuro dovrai tornare Qui per ricevere le ricompense Ed eccoci qua Ed eccoci qua Ed eccoci qua Come potete vedere Tutte queste belle cosine Ogni volta che voi farete Un livello Vi verranno date Delle ricompense Abbiamo un'evocazione Ragazzi Questa la possiamo fare Questa la possiamo fare Quindi poi Andando avanti Vi daranno Tante altre ricompense Fino alla R60 Dalla R60 in poi No Ma ad ogni modo Godiamoci tutte queste cosine Che riprendiamo Mora Quindi soldi Libri per l'ascensione Personaggi Rebecca Mora Grazie per il follow E minerai di potenziamenti Poi Andando avanti Livello 3 Stesse ricompense Livello 4 Si aggiungono 50 primogens Che servono per evocare 5 di questi pollo Al fior dolci Che servono per nutrirci Quando siamo a giro Per curare i nostri Personaggi Se noi abbiamo un healer In team Se no ci sono A livello 5 Ci viene dato un fate Che è un incontro Predestinato Che è una pool Che si chiamano fate Per noi Che siamo appunto Cresciuti con il gioco In inglese Poi Altre cose analoghe Sempre i soliti materiali E di nuovo I nuovi materiali Ma abbiamo una piuma Questa piuma È un artefatto Gli artefatti Vengono dati ai personaggi Per potenziare Le statistiche Piuma e fiore Hanno una statistica Che è sempre quella Che nel caso della piuma È l'attacco E nel caso del fiore È i punti salute I punti vita Gli HP O come li vogliamo chiamare Mentre poi Le altre tre statistiche Ruoteranno costantemente Quindi bisogna selezionare Quelli corretti In base al personaggio Che abbiamo Torniamo a noi Per piacere Lascia che ti dia È benvenuta la gilda Degli avventurieri Siamo nella gilda Intrepido avventuriere Ecco il tuo manuale Dell'avventuriere Fanno anche dei manuali Ora La giunta di un nuovo membro È un'occasione importantissima È più che giusto Fare una piccola cerimonia Ha un registro Degli incarichi E delle ricompense disponibili Ed è anche una prova Della tua adesione Ah un'altra cosa A volte ti ritroverai bloccato Ad un certo grado di avventura In quel caso Dovrai compiere Delle prudezze impressionanti Per guadagnare Ancora più stima Della gilda Prudezze impressionanti A Paimon Sembra un po' esagerato Semplicemente Ci sono delle avventure Specifiche Che una volta terminate Ti permetteranno Di salire al grado D'avventura superiore Che questi sono I famosi nostri All'ascension Ce le ricordiamo Molto bene Delle avventure D'ascensione Se preferisci Ma di questo Se ne parlerà più tardi Le opportunità Di ottenere riconoscimento Arriveranno in base All'esperienza Che accumulerai Può bastare per oggi In futuro Avremo molte altre occasioni Di incontrarci di nuovo Tutti i giorni ragazzi Quando sbloccheremo Le missioni giornaliere Ad Astra Abyssok Avventuriere Con l'impegno Raggiungerai le stelle E conquisterai l'abisso E così abbiamo finito La presentazione Con Catherine Guardiamo dell'esperienza Guadagniamo dell'esperienza E comunque abbiamo qua Tutto un pool Di missioni Che possiamo fare Ragazzi Questa ci serve Il 15 Questa ci serve il 10 Ma abbiamo queste missioni Qua che possiamo fare E questo è il libro Di cui vi parlavo Libro magico Che vi dà delle missioni Per esempio Nella primo capitolo Le missioni erano queste Visita la statua dei 7 Che l'abbiamo fatto Attiva tre portalite Di trasporto Che abbiamo fatto Apri 15 bauli Che l'abbiamo fatto E poi abbiamo potenza La statua dei 7 Dimosta da livello 2 Per fare questo Come vi ho detto Che cosa serve? Serve aver appunto Raccolto Gli animoculus A giro Quindi è un'altra cosa Che noi faremo Assolutamente Grazie per il follow Benvenuti in live Riscattiamo le nostre Ricompense Che sono mora E questa esperienza Avventura è quella Che ci serve per fare La nostra scalata Di rank Per poter poi Proseguire Quindi Prendiamo Prendiamo E prendiamo Abbiamo fatto 300 di esperienza Più le alte Ricompense Quindi adesso Usci la Valaxis Grazie per il follow Benvenuti in live Allora Questo ragazzi È il nostro pity In questo momento Se volete sapere Che cos'è il pity Come funziona Anche voi state guardando Un video su youtube E siete arrivati Fino adesso Sul canale C'è una sezione Una playlist apposita Qua su youtube Di guide Che si chiamano Appunto guide C'è una che spiega Che cos'è il pity Che cos'è il banner Evento E tutto il resto Quindi guardatevi Quel video lì E non perdetevelo Comunque Qua probabilmente Non uscirà nulla Ragazzi Perché comunque Il nostro pity È molto 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 basso Siamo esattamente A 11 E il 4 a 6 È uscito a poco Ti avessi su tiktok E sono a quarta Seguite su twitter Grazie mille Jov E per tutti voi Lo dico anche per quelli Che vedranno poi il video Mi raccomando Di seguirvi su tutti i social Anche su instagram Sono una costera Anche di genshin E lì a giorno Quando usciranno i video Su youtube Quando ci saranno le live Su twitch Su tiktok Su twitter E su tutti gli altri social Vi aspettiamo Allora Io direi che Voi della chat Qui con me Fate un bello spam Di emoticon Propiziatorio Propiziatorio Per vedere Se facciamo uscire Un 4 stelle Rikigamer94 Grazie per il follow Ben arrivato Se facciamo uscire Un 4 stelle È uscito da poco Quindi le probabilità Sono scarsissime Ma mai dire mai Mai dire mai Quindi Chi lo sa Chi lo sa Chi lo sa Solo 4 Ora Spirare il 5 Mi sembra un po' tumaggio Però vediamo 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 se magari Veniamo blessati In qualche maniera Proviamo 3 stelle Come vi dicevo Non mi aspettavo Grandi cose Non mi aspettavo Grandi cose E ho trovato Un bellissimo Arco Corvino Che comunque Siamo all'inizio Quindi tutto va bene Tra l'altro Cosa molto importante Voi pullando Otterrete dei punti Che sono Stardust E star glitter Che si chiamano qua Polvere di stelle E luce stellare Le luci stellare O star glitter Sono praticamente Dei frammenti Che si ottengono Quando trovate 4 stelle Sia personaggi Che armi E 5 stelle Invece Le polvere stellare Si trovano A tutte le pull La cosa molto importante Delle polvere stellare È che ogni mese Ne mettono A disposizione 5 e 5 Quelli che si trovano Praticamente Nel banner Appunto Sia evento Che temporaneo Comprabili Semplicemente Con questi Quindi dateci sempre Occhio Si refreshano Ogni mese Ayana grazie per il follow Vale la pena Livellare Ayanfei Assolutamente sì È un ottimo catalyst E quindi Ragazzi Stateci sempre occhio Per esempio Noi adesso Possiamo prenderne Un paio Che io conserverò Vi ho detto Per delle pull Che faremo future In questo account Continuando a pullare Magari con I fate Che troviamo Quegli azzorrini Riuscirò a prendere Anche gli altri All'inizio ovviamente Se uno soprattutto Conserva e non pull È difficile Farmarsele quelle Però Però Col tempo Quindi Detto questo Allora ragazzi Io direi che iniziamo Facciamo una di queste Quest secondarie Qua segnalate Tipo Affiliare lascia Non ostacola di lavoro Che andiamo a parlare Con il fabbro Poi direi che Per la parte di oggi Siamo a buon punto Quindi Ecco il fabbro Eccoci qua Dal fabbro Wagner Ta Chi c'è? Che c'è? Sto cercando un'arma Da quella parte Scegli pure Oppure se ti serve Qualcos'altro Posso farla Su richiesta Cavoli Fai anche armi Su misura Certo Vendo armi Le fabbrico Su ordinazione E faccio rifiniture Ma tutto Fa tutto parte Il lavoro Di un fabbro Basta solo avere I minerali necessari Dove li posso trovare? Un po' ovunque Hai l'aria confusa Ascolta Ti dirò Dove sono i depositi Più vicini Unghietta Grazie per il fallo Benvenuti in live Portami in alcuni Ti dirò Ti dirò Forgiare Tutto ciò Che serve Ottimo Grazie Non c'è bisogno Ho altro da fare Bene Ar6 Sul mio account principale Quasi al 60 Questo che è il secondario Che ho ricominciato Per rivivere L'avventura in italiano E fare una guida Che poi carico anche su youtube Sono adesso al 7 Ok Bene Allora Sì questa è dell'esperienza Ci ha spiegato cosa fare Dobbiamo andare a trovare I materiali Per forgiare le armi Forgiare le armi I materiali per forgiare le armi Sono questi qua ragazzi Sono questi tipo questo Che vedete qua sopra di me Sono rocce E cose varie Adesso sicuramente Sulla mappa Ci indirizza Ad un punto che ricordo Dove vi fa distruggire Un po' di rocce Le rocce Allora Tranne quelle base Che banalmente Serve O una spada O una lancia Per tirarle giù È più difficile ovviamente Colpirli appunto Cioè con i catalyst Non si possono distruggere E anche con gli archi È una cosa un po' fastidiosa Quindi vi consiglio Di tirarle giù le rocce normali O con spada O con lancia In alternativa Se avete una claymore È la cosa migliore di tutti Perché lo spadone Ha la capacità di rompere Anche le rocce più dure E quindi È molto utile per quello Soprattutto per l'esplorazione Avere uno spadone in team Vi permette di rompere le rocce Poi ci sono alcune Particolari alternative Tipo alcune skill elementali Come la skill elementale Di zongli Che rompe le rocce Ma è una skill a parte Di un personaggio Quindi Di per sé Di solito le rocce Si rompono O con appunto Queste cose qua O con i geo Tipo Ningguang Esatto Che click Utilizzano le bombe Ci sono degli alternativi Ovviamente anche ai catalyst Però di norma Meglio utilizzare una spada Per tirare giù I assassini I assassini normali Tipo quelli che andiamo A distruggere adesso Ne ho appena di ferro E lo consegniamo a Wagner Eccoci qua Eccoci qua Quindi In prima classifica Lo spadone Se no a questi altri Ecco qua Se avete pullato Noelle Nel suo banner Cosa che io Vi sconsiglio Se volete sapere Perché vi sconsiglio Nelle guide C'è cosa da fare A non fare a Genshin Impact Vi parlo anche Del discorso di Noelle O meglio del suo banner Appunto In quel banner lì Avete avuto magari La possibilità di dropparla Lei in questo è molto utile Soprattutto all'inizio Vi servirà per rompere Più facilmente il tutto Ecco qua Li abbiamo raccolti tutti Li ho raccolti tutti Anche quelli più Di quelli necessari Proprio perché Servono veramente tanto I materiali Tutti i materiali in gioco Ogni volta Vedete qualcosa Che sbrilluccica Perdete quel minutino O quei veramente Dieci secondi In realtà Per la maggior parte Le cose Che vi serve Per raggiungere la cosa E dropparla Perché vedete Che tutto Tutto torna Alla fine della fiera Tutto è importante Quante pool bisogna tenere Per trovare un personaggio sicuro Bisogna fare 90 evocazioni Se entro 89 Non ti esce Un personaggio a 5 stelle La novantesima Sarà sicuramente Un 5 stelle Giovi Grazie per il follow Benvenuti in live Cosa volete? Ho i pezzi di ferro Oh sì Me ne ero dimenticato Questi dovrebbero andare bene Dovrei riuscire a utilizzarli Vorrei che mi fabbricassi qualcosa Gatto fucile Grazie per il follow Benvenuti in live Allora Vorrei che mi fabbricassi qualcosa Noi Qui ci sono tante cose Craftabili Ci sono io sopra Quindi non le vedete In questo momento Però potete capire Che c'è un menu Con vaste cose Mi tolgo un attimo La mia faccia Così potete osservare Quello che si vede In questa schermata Ecco qua Come vedete appunto Ci sono vari tipi di materiali Minerali E anche tutta una serie Di armi Craftabili Poi per craftare le armi Vi spiegherò Che serviranno anche Dei particolari strumenti Che sono le prototype Che sono dei prototipi di armi Che sono la base Lo scheletro Su cui poi viene fatta L'arma stessa Ma questo è un discorso a parte Ora facciamo giusto appunto Due cristallini di forgiatura Giusto per appunto La missione in questione Ci mettono veramente poco A essere craftate Proprio poco poco Abbiamo già fatto Ottenuti entrambi Fatto Ottenuto E adesso lui ci dirà Se Tavi alti minerale In futuro Puoi anche tornare da me Probabilmente Quando non sono occupato Sembri di cattivo umore Il lavoro di un fabbro Chiede concentrazione Non prevede di chiacchierare Con i clienti Quando posso lavorare liberamente Gli affari vanno bene Il mestiere è tutto qui E se qualcuno ti dice il contrario Vuole solo imbrogliarti Se non avete altro da dire Io mi rimetto all'opera Varianetti Chillo Grazie per il follow Benvenuti in live Quindi questo è Questo è fondamentale Bene ragazzi Io direi che siamo Siamo ok per oggi Abbiamo fatto anche la nostra Oretta di Appunto gameplay nuovo Sull'account nuovo E ci possiamo fermare qua Allora Per tutti i nuovi arrivati Benvenuti nel canale Io sono Maui Sono una content creator Ufficiale di Genshin Impact Gioco dal day one E sto Sia portando avanti Il mio account principale Che è quasi al 60 Ho tutti i personaggi Per ero usciti E appunto Sto seguendo Tutta la storia Tutti i vari eventi Faccio guide Tutto quello di cui avete bisogno Lo trovate anche su youtube Ho anche un account tiktok Che parla principalmente Di Genshin Sia in ambito di meme Sia in ambito appunto Sabato Sabato 17 Dicembre Perché comunque qualcuno Magari la vedrà più tardi E niente Io vi ringrazio per la compagnia Anche in questa parte È stato un piacere E ci vediamo alla prossima Dove porteremo avanti Ancora quest'account Non so se farò magari Qualche missioncina extra Per livellare un pochino Così che iniziamo La prossima volta Che ho l'account già Quasi al 10 O comunque in giù Intorno al 10 Così da poter andare avanti Con l'arco Con questo principale Penso di sì E quindi insomma Ci rivedremo la prossima volta Grazie